Il Rotary Club di Bicelli ha premiato con 5 borse di studio altrettanti studenti più meritevoli della città confermando l'attenzione per le emergenti eccellenze del territorio. Sentite. Festeggiamo quest'anno la diciottesima edizione di un evento che è un classico dell'anno rotariano. Il club premia gli studenti più meritevoli, più brillanti che alla fine del loro percorso nella scuola secondaria e secondo grado abbiamo conseguito 100 e l'ode ed è anche un momento per fare delle riflessioni importanti sull'importanza della scuola e sul significato del valore dell'istruzione. Naturalmente la scuola deve preparare i ragazzi al futuro. Quelli che stanno lasciando la scuola, alcuni le state premiando e sono preparati, ma gli altri? E gli altri dovranno trovare la loro strada. Certo bisogna aiutarli, bisogna creare connessioni tra il mondo della scuola, il mondo dell'università e il mondo del lavoro, quindi imprese e ordini professionali in modo da strutturare, da articolare un patrimonio di competenze variegate che possano poi funzionare da motore propulsore del rilancio sociale, economico e anche culturale della nostra terra. La cosa importante è che restino. Questi giovani sono un patrimonio da preservare e da tutelare. Qual è il livello della scuola qui a Bicelli? Beh direi che è un ottimo livello. La legge è lunga il gran numero di ragazzi che hanno conseguito 100 e 100 e lode. Poi Bicelli è estremamente vivace dal punto di vista culturale, c'è una marea di associazioni che sono estremamente attive dal punto di vista culturale e credo che questo abbia creato un background che stimola fortemente allo studio. Il Rotary investe sui ragazzi, li fa crescere, ha anche la sua sezione giovanile. Tutto questo porta a dire che bisogna credere sempre di più nei nostri giovani. Assolutamente. Noi abbiamo il Rotaract e l'Interact come sezioni giovanile. Ci crediamo molto, ci crediamo fortemente. La serata di questa sera mi pregio di dire che sarà una serata veramente all'insegna dei giovani.